Musica Benvenute, allora oggi sbagliamo insieme l'album numero 12 del Libro Shake valido fino al 2 ottobre del 2015 Vedrete subito tantissime novità, davvero novità fantastiche e tante offerte Soprattutto ci sono tante offerte combinate, quindi con l'acquisto di un prodotto in omaggio un altro Poi degli sconti, quindi davvero un catalogo da non perdere, non indugiamo oltre Iniziamo subito a sfogliarlo in formato digitale Eccoci qui, iniziamo perché questo è un album davvero super ricco di novità Album numero 12, valido fino al 2 ottobre del 2015 Qui c'è il sommario, vedete subito le wow novità, giriamo la pagina E abbiamo, ecco, qui vi faccio vedere le novità che sono queste mattite occhi colorate Guardate che bei colori, sono questi e anche questi colori Prezzo arancio 7,95 Ogni matita acquistata, c'è tra queste qui e queste qui Ogni matita acquistata in omaggio si ha una mini taglia di questi prodotti Quindi la mini crema fondamentale giorno, oppure il mini trattamento del gigante giorno Oppure la mini crema idratante in etiva Quindi scegliete una matita più il codice qua per la del domaggio e il regalo Le matite possono essere anche in promozione Ve le faccio vedere, eccole qua Qui, le matite queste qui Se ne acquistate due, due matite, ecco A 12,95 Quindi nel caso di acquistate due, vedete che conviene Quindi il primo codice è questo nero e il secondo codice è quello rosso Per avere le due matite a 12,95 Andiamo ora avanti Prima di tutto, fra quelli che vi mostro adesso Acquistando 20 prodotti, 20 euro in prodotti trucco Si è in omaggio questa palette Che guardate è davvero fantastica Composta da 4 ombretti e 2 blush Proprio molto bello Novità, innovazione 2 in 1 Ed è il mascara smokey Perché è un mascara più ombretto 16,95 Quindi viene il colore nero, marrone e antroccite Quindi un grigio E qui mostra un attimo come fare Vi faccio vedere un attimo Che vedete che lo scovolino per il mascara Più l'applicatore per la faltebra E' un palazzo unico Quindi applichiamo per fare il mascara Per la faltebra Si potrebbe stendere prima con la palettina sotto la faltebra E poi dopo si applica il mascara Il trucco più o meno è questo Uno smokey molto intenso Molto bello a mio parere Questi palazzi invece si conoscono già Ma vanno sempre validi per l'acquisto di 20 euro Per avere la paletta Andiamo avanti Ecco, altra novità Eccola qua Il top coat per l'ombretto Sapete che tante marche che amici sono uscite con questo palazzo E ovviamente E' effetto 95 C'è anche il nostro Quindi Top coat Per fissare l'ombretto Quindi dopo il colore Questo Questo è effetto metallico-argento Con perlato dorato Oppure il brillante Trasparente Si applica ovviamente sul makeup Sia sopra che sotto la matita E sia sopra che sotto l'ombretto Per un colore davvero brillante Altri prodotti che già conoscivano sui mascara Che però vanno sempre per l'acquisto Dei 20 euro per avere la paletta in maggio Anche questi E anche questa pagina Anche questa con i lombretti Anche questa Questa E ora vi mostro un'altra offerta Perché si viene meglio qui Eccola A 19,95 Abbiamo il set Che comprende il fondotinta in crema E la cipria in polvere vellutata Eccola qui Ovviamente si può scegliere tra E' tutto il color disponibile Vedete Ed è Per farvi vedere un attimo Si può scegliere Delle rosa Del beige Ovviamente Più adatto il vostro incarnato E' davvero la nostra notizia Più la cipria Per fissare E' davvero un ottimo E a questo prezzo Diciamo Un attimo davvero ottimo Altri prodotti Sempre per l'acquisto Dei 20 euro Per il cipro di un omaggio Alla paletta Anche questi Ovviamente Anche questo I rossetti Altra promozione Ve la faccio vedere Perché a 11,95 C'è il set Della matita Più il rossetto Questi rossetti brillanti Per un tetto vegetale Quindi La matita questa Che è il stilo Ed è davvero validissima Vedo provate Dicono davvero che vai Da più Il rossetto Scelta Sia la matita Ed che Ad esempio Per ordinare Si fa Il codice nero Del rossetto Scelta Il codice rosso Della matita scelta Il prezzo E il prezzo È di Questi sono altri prodotti Altri per la Finicat Anche questi Sempre per Con 20 euro Se sempre Un omaggio Alla palettina Anche questi Gli smalti Gli smalti Gli smalti Effetto gel E finiamo Qui con I prodotti Ecco Finisce in questa pagina Con gli smalti Per avere I 20 euro E l'omaggio A palettina Qui abbiamo In promozione Ed è davvero Una grande promozione Lo struccante Rapido Occhi Bifasico 3,95 Sapete che io Continuerò a parlarvene Benissimo Perché rimuove Qualunque tipo Di trucco Anche quelli Che normalmente Non si struccano Con nient'altro Quindi davvero È delicatissimo E fantastico Ora Super promozione Perché 1,95 euro Abbiamo tutti I gel doccia Quindi tutti Quelli De tutte le De tutte le Prefumazioni Per queste Queste E ovviamente Anche queste Che sono di crema doccia A 1,95 euro L'uno Eccoci con Un'altra novità Novità per i capelli Perché abbiamo Una crema trattante Senza risciacquo Rende i capelli Nutriti Riparati E facili da pettinare Importantissimo Che contiene Giojoba E calite Quindi davvero Ottimo Per i capelli Non ha siliconi Ed il flaccone È 100% Acciclabile E contiene Più del 94% Di ingredienti Di origine Vegetale Quindi davvero Un ottimo Prodotto Si applica Ovviamente Sui capelli umidi Senza risciacquare Ed è poi Si asciuga Come il consulito A 6,95 È davvero Un prodotto Molto valido Da provare Sicuramente Eccoci Qui questo Nuovo trattamento È la novità Della serum vegetale La linea rughe Compattezza Quella dei 40 E 50 anni Ed è un siero Notte Un trattamento Completo Innovatore Notte Che permette Di colmare Le rughe Rughezze Anche quelle più profonde La grande La pelle È molto Più compatta Si ha Un miglioramento Cellulare Quindi un rinnovamento Cellulare Che permette Una pelle Più liscia Ed è più Compatta Come si usa Si applica Due volte A settimana Alla sera Sulla pelle pulita Si applica bene Su tutto il viso Si lascia agire Per tutta la notte Ovviamente E non si risciacqua Non si deve applicare Neanche Nessun altro tipo Di trattamento Perché già lui Lavora Ed è In modo Molto energico Quindi 16,95 È davvero Un trattamento Ed è Rinnovatore Della pelle Sicuramente Un perlotto Da provare Eccoci ora Alla cura Delle mani Perché acquistando Un pallone Che palotto Ecco Tra questi qua Della cura Delle mani Si ha In omaggio Ed è Un accessorio Scelto Sempre per la cura Delle mani Invece che al prezzo Solto Solto Quindi Acquistiamo Un pallotto Della linea Per le mani Quello che volete Quello che preferite Ovviamente Ed in omaggio Avete Potete scegliere Le bastaccini Per cuticole In regalo Usando il codice Cina questo Le kit Delle linea Professionali Con questo codice La lima Questa Ha tre facce Quella per lucidare Oppure Il sette Di mini lime Per i piedi Stesso discorso Il trattamento Per i piedi Ed è Quello che preferite Quello che più Ed è Utilizzate Tra tutti quanti Ed è In omaggio L'accessorio Per affare i piedi Quindi tra la raspa La lima Per i piedi La spazzina Per unghia La pietra Comice E se fa la vita Ultima offerta Eccola qui Lo shampoo trattante E inutile Deparatore Grande prezzo 2,95 Piccolo prezzo Con un grande formato Perché il flacone Da 300 ml Direi che abbiamo Finito l'album Esatto E siamo Quindi alla fine Eccoci Allora Abbiamo concluso il tour Abbiamo visto tutto l'album Come sempre Qui sotto Nell'info box Ci sono i link Per contattarmi Per informazioni Per gli ordini Qualunque cosa Sapete che sono sempre a disposizione Ma anche per questo catalogo Posso dire Che le offerte Sono molto diverse Da quelle dei negozi Quindi perché Sono tutte offerte Combinate Quindi davvero Promozioni imperdibili E troverete come sempre Il link Per scaricare Il formato PDF E l'album Così potete tranquillamente Suogliarlo Sul vostro computer Con calma Non mi resta che augurarvi Buoni acquisti E attualmente affermati Con la maggioratura Nel mondo Vivereci